Ciao a tutti ragazzi sono Dattego47 e oggi vi farò vedere che quest'oggi porterò il secondo episodio di Minecraft su PC Infatti registrerò con questa GoPro, eh no non è la mia faccia, aspetta, non ve la faccio, non la so far vedere infatti questa mini telecamera Però ora è staccata penso, si è staccata, infatti non registro niente, niente, seguitemi su Instagram, attivate la campanellina Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un bel mi piace qua e la lasciate pure un bel cuoricino su Instagram Se volete mi trovate su Instagram come Gabriele Rinardi Poi se mi volete vedere e se mi volete seguire su Facebook la stessa cosa Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, questo video è da Dattego47 auto